ok allora siamo pronti anche oggi per la diretta vi ricordo che le dirette si svolgono in contemporanea sul gruppo il mondo degli spitz e sul gruppo play dog and cat community e che nonostante la facciamo appunto adesso in diretta e quindi è possibile partecipare interattivamente con i commenti durante la registrazione potete comunque lasciare scritto successivamente alla diretta nei commenti le vostre eventuali domande i vostri dubbi in modo da poter rispondere alla volta successiva allora un piccolo appunto una chiusura rispetto alla diretta della settimana precedente in quanto purtroppo per problemi tecnici non vedevo i commenti che mi venivano scritti da quello che ho letto mi si chiedeva in particolare per chi ha più cani addirittura 6 spitz come agire per il problema dell'abbaio e ecco è una cosa che appunto non avevo chiarito durante la diretta quando si hanno più di un cane quindi da due in su bisogna innanzitutto capire se entrambi hanno un problema legato all'abbaio eccessivo oppure se uno di due che parte l'altro viene semplicemente trascinato dall'abbaio del primo e andare ovviamente ad agire su solo sul cane o i cani se sono più di uno che iniziano ad abbagliare eccessivamente di solito verso gli altri cani succede durante la passeggiata e quindi appunto lavorare su chi inizia la problematica e bisogna lavorarci singolarmente ad esempio appunto chi ha sei cagnolini se si vede che uno o due iniziano il furore e gli altri poi seguono a ruota allora quei cani vanno presi un attimo singolarmente bisogna lavorare singolarmente sul problema come poi spiegato durante tutta la diretta in modo da poter correggere chi inizia ad abbagliare e quindi gli altri non seguiranno a ruota se è un problema che ormai si è esteso a tutti i cani del branco familiare bisogna comunque lavorare in parte singolarmente sarebbe meglio o a limite a coppie perché mi rendo conto che con sei cani è difficile lavorare singolarmente e poi andare a lavorare sempre più con compreso tutto il gruppo familiare però ecco quando ci sono tanti cani diciamo da tre in su che diventa una cosa un po più complessa entra in un gioco dinamiche anche un po più particolari vi consiglio quel punto di rivolgervi a un educatore che venga a domicilio a verificare i rapporti tra i cani come li gestite come si svolge il momento dell'abbaio quindi la problematica se è solo quella eccetera eccetera perché mi rendo conto che da tre cani in su avendone due mi rendo conto che da tre cani in su diventa veramente un po più problematica la gestione quindi appunto chiudo un attimo questa parentesi mi è sembrato di aver capito mi è sembrato di capire che era quello il problema fondamentale per cui mi avevate chiesto più cose poi vi ricordo che per questioni un po più personalizzate specifiche potete sempre contattarmi in privato invece passiamo all'argomento di oggi ovvero la castrazione e la sterilizzazione a livello comportamentale quindi specifico subito che non mi soffermerò sull'aspetto veterinario faccio magari solo una piccola parentesi iniziale su cosa ho capito io confrontandomi con dei veterinari ma spero che la veterinaria del gruppo il mondo degli spitz faccia poi una diretta esclusivamente sull'argomento per spiegarci anche il suo punto di vista io invece voglio dire un aspetto comportamentale che spesso si tralascia nel senso che quando si parla di castrazione e sterilizzazione spesso appunto ci sono anche post su facebook di persone che chiedono consiglio e ci si sofferma sempre sulla salute quindi sulla prevenzione dei tumori piuttosto che sulle problematiche che può dare l'operazione in sé non ci si sofferma mai a capire se la scelta di castrare o sterilizzare è la scelta giusta per il benessere mentale del cane proprio a livello appunto comportamentale caratteriale allora appunto la piccolissima premessa in ambito veterinario a mio avviso quello che ho potuto comprendere ripeto poi spero che la veterinaria ci dia anche la sua opinione più completa in pratica non c'è un sostanziale beneficio perché c'è sempre stata appunto questa idea che la sterilizzazione e la castrazione prevenga i tumori i tumori ovviamente a livello degli organi che vengono rimossi con questa operazione tuttavia negli ultimi anni si sta scoprendo che può invece aumentare il rischio dell'insorgere di altri tipi di tumore legato principalmente alle ossa nonché all'ostoporosi quindi a livello di salute oltre poi ai rischi dell'anestesia in sé e dell'operazione che è diventata comunque un'operazione estremamente semplice di routine i rischi e benefici un po' si equivalgono da quello che ho potuto capire io e tutto qua quindi ultimamente ci sono state queste scoperte quindi chi pensava voglio solo dire questo chi pensava che castrazione e sterilizzazione servissero esclusivamente per la prevenzione dei tumori sappiate che in realtà c'è anche l'altra faccia della medaglia sull'ambito salute perciò non è secondo me la base corretta per cui prendere la decisione se fare o meno l'operazione nel frattempo visto che la volta scorsa abbiamo avuto problemi con i commenti vi chiedo chi è online se volete scrivermi qualcosina così capisco se a sto giro riesco a vedere i commenti perché per adesso non ho visto neanche uno così mi aiutate a risolvere eventuali problemi tecnici oltre a dirmi se si sente bene oggi ho cercato di sistemare tutto al meglio partiamo invece a parlare dell'aspetto comportamentale legato all'operazione di sterilizzazione e castrazione allora ok ciao grande Diana che mi aiuti con un bel saluto perfetto direi che i commenti almeno li vedo a sto giro se volete scrivermi se si sente bene il video mi fate un favore torniamo a noi allora dobbiamo partire dal presupposto che è vero tra virgolette che un'operazione che va a togliere la fine degli organi del nostro cane è contro natura nel senso che in natura ovviamente i cani così come anche i gatti non verrebbero sottoposti a sterilizzazione e castrazione e allora perché la consigliano Samuela se stai parlando dell'ambito salute veterinario spero che la dottoressa poi ci illumini esattamente sulla questione tumori ho detto solo quello che ho scoperto ecco negli ultimi anni grazie Diana per il feedback che si sente bene torniamo a livello comportamentale dicevo dobbiamo tanti prendono lo spunto del e contro natura e a me fa un po' ridere questa cosa perché perché se analizziamo la vita dei nostri cani è praticamente tutta un conto li teniamo legati al guinzaglio li teniamo in casa in uno spazio ristretto e spesso volentieri li teniamo anche in casa maschi e femmine purtroppo a volte non sterilizzati e castrati separandoli durante il periodo del calore della femmina portando a gravissimi problemi di stress perché in natura maschio e una femmina quando la femmina è in calore verrebbe coperta assolutamente non sarebbe non verrebbe separata dal maschio perciò sfatiamo innanzitutto questo mito che è contro natura sì ovviamente è contro natura nel senso che in natura non verrebbe eseguita l'operazione come il cane non verrebbe tenuto al guinzaglio non verrebbe selezionato quindi non esisterebbe lo spiz ad esempio e un sacco di altre cose sarebbero contro natura nella vita di un cane ok grazie figurati quindi questo del contro natura secondo me non regge ecco non sta in piedi e per chi dice vabbè visto che già la vita di un cane è tutta contro natura non aggiungiamo la sterilizzazione e castrazione ecco qua invece dobbiamo fare un passo indietro allora sterilizzazione e castrazione significa non soltanto togliere un organo al cane ma togliere un organo un organo che produce un set ormonale specifico nel caso dei cani la produzione che viene alterata è quella del testosterone che governa in gran parte il comportamento di un cane maschio nel caso delle femmine invece gli ormoni femminili progesterone, estrogeni adesso anche qua non voglio indagare a livello veterinario ma solo a livello comportamentale che cosa implicano questi ormoni la presenza di questi ormoni o l'assenza di questi ormoni o quantomeno la diminuzione drastica in questi ormoni quindi vediamoli separatamente cane maschio innanzitutto il cane maschio sappiatelo non va in calore se qualcuno lo dice no, non è così il cane maschio è sempre pronto ad accoppiarsi se sente una femmina in calore non ha dei periodi di estro in cui è pronto e dei periodi in cui no ma lui è sempre pronto e questo è appunto governato dal testosterone ci sono io li definisco testosterone ci sono dei cani testosterone nel senso che hanno un'alta produzione di testosterone e questo è fortemente visibile nel loro comportamento a volte addirittura fin da cuccioli mettono in atto comportamenti che noi diciamo genericamente nel linguaggio comune definiremo dominanti che ovviamente da cucciolo non sono dominanti sono soltanto delle prove delle prove tecniche per l'età adulta e e vengono sono molto sensibili scusate al calore quindi sono cani che dagli otto mesi in sud di età ma a volte anche prima impazziscono letteralmente se c'è una femmina in calore nelle vicinanze nelle estreme vicinanze vanno proprio fuori di testa ma anche al nervaggio di chilometro di distanza possono accusare sintomi quali inappetenza fissare nel vuoto giuro che l'ho visto fare a un cane personalmente si entrava sul balcone fissava nel vuoto immaginando i bei momenti che poteva passare con una cagnolina che non era lì fisicamente non sappia neanche dove fosse cagnolina ovviamente in estro in quel momento e nervosismo irritabilità magari anche addirittura improvvisa aggressività dovuta appunto a una maggiore irritabilità generale ecco il mio perfetto ok che cosa succede in questi casi qua come dicevo questi sono cani testosterone cosa succede cosa significa che subiscono in maniera forte il lavoro del testosterone all'interno del loro organismo ne producono molto ecco altri sintomi altri segnali che vi fanno riconoscere un cane del genere sono che a partire dagli otto mesi circa in su chiudono i ponti con tutti i cani maschi in particolare se interi quindi non castrati marcano ossessivamente quando sono fuori in passeggiata anche ogni cinque metri continuamente anche con gocce microscopiche di pipì che noi magari non vediamo che vengono prodotte dall'organismo in quel momento e sono cariche di ormoni quindi mi sento spesso dire continua a fare pipì anche se non gli scappano in realtà non è che sta facendo pipì che sta solo esclusivamente marcando con una o due gocce di questa pipì speciale diciamo così carica di ormoni e appunto dicevo forte energia fino al nervosismo sì anche in casa possono anche uggiolare e piangere in giro in giro per casa ripeto la femmina non è necessario che sia nei paraggi diretti molto molto vicina può essere anche vicino di casa ma anche quello del condominio di fronte o a un chilometro di distanza dipende dalla sensibilità del cane che cosa è meglio nel caso di un cane testosteronico penso che la risposta sia scontata in questo caso io cerco sempre di mettere a confronto rischi e benefici quindi se un cane testosteronico che va fortemente in agitazione con una femmina in calore nelle vicine è ossessionato dalla marcatura del suo territorio che non va più d'accordo con i cani maschi che magari mette in atto altri comportamenti particolari in casa o fuori a quel punto il benessere psicologico del cane vale la castrazione perché se noi castrassimo il nostro cane avremmo un livello di testosterone sicuramente più basso che porterebbe a non avere questo tipo di comportamenti o al limite ad averli in maniera molto molto ridotta adesso vi spiego anche un'altra cosa sui cani testosteronici datemi soltanto un attimino faccio uscire Harley che poverino mi sta chiedendo di uscire arrivo giudicissimo vai ok scusatemi come dico sempre il bello della diretta allora dicevo cani testosteronici producono un alto livello di testosterone all'interno dell'organismo che causa questo tipo di comportamento in particolare se ci sono le femmine in calore nelle vicinanze ma anche in generale cioè tendono ad essere molto più territoriali e attaccabrighe in particolare con i cani maschi non castrati piccolo dettaglio che tanti non sanno anch'io un tempo non lo conoscevo me l'hanno spiegato dei veterinari alcuni di questi cani testosteronici una volta castrati possono maggiorare le caratteristiche di un cane non castrato perché possono intervenire le ghiandole surrenali a compensare in parte almeno la mancata produzione di testosterone che vi ricordo viene prodotto in gran parte dai testicoli che vanno eliminati appunto con l'operazione della castrazione ditemi se a qualcun altro si blocca il video ogni tanto perché Samuela mi sta dicendo che a lei capita se capita a qualcun altro capiremo che è un problema del video se no Samuela forse davvero del tuo cellulare dicevo che cosa succede se intervengono le ghiandole surrenali a compensare in primis comunque non si può sapere nel se ok perfetto vale dicevo in primis non si può sapere quindi non è corretto pensare vabbè anche se lo faccio castrare potrebbe comunque mantenere un alto livello di testosterone per le ghiandole surrenali perché comunque è una possibilità ma non è alta come probabilità mi può succedere ma non è così frequente mi spiace Samuela magari poi riguardi la diretta meglio in un secondo momento purtroppo l'importante è che vada bene dicevo quindi quella non è una scusante per evitare la castrazione però sappiate che può capitare e dicevo il testosterone una volta se viene sostituito dalle ghiandole surrenali comunque è prodotto in percentuale minore perciò in ogni caso i comportamenti tengono un po' ad attenuarsi quanto meno ecco piccolo appunto sull'opera di solito appunto si esegue l'asportazione dei testicoli attenzione se qualcuno vi propone la vasectomia che è invece un chiudere i dotti che che trasportano lo sperma da quello che so io ripeto io non sono veterinaria in ogni caso con la vasectomia i testicoli restano lì e continuano a produrre testosterone e non serve assolutamente a nulla a livello caratteriale serve la vasectomia esclusivamente per rendere sterile il cane ma non non agisce minima parte sul comportamento altra piccola nota a livello organico dopo la castrazione per vedere un cambiamento che sia netto o lieve nella sfera comportamentale bisogna aspettare da 1 a 3 mesi circa perché il testosterone è un ormone che è in circolo nell'organismo del cane e ci vuole del tempo prima che venga comunque smaltito e che si si ritorni a un equilibrio ormonale stabile quindi questo sappiatelo dicevo altri aspetti positivi per il cane invece castrato se eseguita in giovane età la castrazione può sicuramente evitare che il cane diventi rissoso verso gli altri cani maschi interi perché tra l'altro anche scusate non ho nominato il fatto di marcare in casa che è un problema che ho notato hanno in molti più frequentemente i cani di piccola taglia non sappiamo esattamente il perché probabilmente perché tendono comunque a essere cani un po' più insicuri magari hanno più bisogno di marcare il proprio territorio oltre al fatto che spesso vengono tenuti molto più in casa più tempo rispetto a cani di grossa taglia che magari vengono presi da persone che hanno il giardino che durante la giornata li lasciano in giardino eccetera eccetera comunque questo è dato di fatto ecco questi due aspetti quindi marcatura in casa a zampa alzata ricordiamoci che le marcature nel cane sono sempre a zampa alzata tant'è che se una femmina è particolarmente territoriale ma farà la pipì a zampa alzata anche lei mentre il maschio che fa pipì appunto per marcatura è sempre a zampa alzata se la fa a sedere a terra come una femmina in quel caso non è 99 su 100 non è marcatura territoriale dicevo sul fronte di pipì eventuale in casa come marcatura nonché la marcatura ossessiva quando si è fuori e sul fatto di essere diventare un cane rissoso con gli altri cani maschi se la castazione viene eseguita in giovanità questi due problemi solitamente non si presentano affatto e boh allora mi spiace invece se la castazione viene eseguita a un'età più avanzata diciamo dai tre anni in su i comportamenti di questo tipo un pochino restino perché allora intanto si crea un'abitudine un condizionamento che cosa succede del cane va avanti che ne so due tre anni ad avere un certo tipo di comportamento quindi essere rissoso verso gli altri cani maschi o a fare pipì in giro per casa o a fare pipì ossessivamente fuori durante la passeggiata a marcare ogni albero che incrocia mi inizia lì tutti ah ce li hai tutti te ok ok ecco questi comportamenti qua di sicuro solitamente si ha una drastica diminuzione dopo vi racconto di un chihuahua che ho seguito però una volta presa l'abitudine quindi una volta che il cane ha un condizionamento molto forte è possibile che in parte persistano perché perché il cane si è abituato a fare quelle cose la femminuccia volta alzano perfetto ecco solitamente sono femmine molto forti di carattere e un pochino territoriali rispetto a quelle che non imparano mai a farla salvo rare occasioni in cui la femminuccia è semplicemente cresciuta con un sempre ha avuto un imprinting di fare la pipì a zampa alzata ma quelli sono casi rarissimi torniamo a noi dicevo vi racconto di questo chihuahua otto anni faceva pipì ovunque in casa ma ovunque ovunque c'erano traversine dappertutto appoggiate ai muri in verticale consigliata assolutamente la castrazione oltre che le classiche cose comunque uscire più spesso in passeggiata e un pochino di regole in più il cagnolino otto anni faceva pipì in casa non ha smesso del tutto un pochino ha continuato a fare pipì tuttavia la proprietaria praticamente doveva pulire la metà delle volte ogni giorno ed era abbastanza felice devo dire del risultato nonostante che ripeto non aveva smesso non si può assolutamente pretendere che un cane dopo otto anni che fa una determinata cosa smetta di punto in bianco ha anche tutto la marcatura in casa vedi vale essere un'altra testimone vivente appunto dicevo dopo tot anni non si può pretendere che il cane smetta di colpo di avere un comportamento un determinato comportamento tuttavia è positivamente anche molto probabile che smetta dipende un po' da cane a cane io dico sempre che non si può pretendere appunto però ci sono diversi casi che ho visto visto anche testimoniati molti di più su facebook sui vari post chi commenta eccetera di cagnolini anche un po' più in là con l'età quindi non cuccioloni entro l'anno o i due anni di età ma anche più in là che appena eseguita la castrazione hanno smesso di fare pipì in casa e hanno assunto un atteggiamento più amichevole nei confronti dei maschi magari sono rimasti un po' aggressivi verso i maschi con cui già litigavano e anche qui sempre una questione di abitudine a quel punto però si mostravano in ogni caso più socievoli più amichevoli appunto sempre per il testosterone e qui facciamo una piccola nota alcuni pensano che con la castrazione cambia il carattere del che non sia più lui che non sia più tosto cose del genere il problema è che non ci rendiamo conto che queste questi caratteri queste sumature del comportamento del cane non sono il suo carattere non è il cane in sé se io ho toby che è aggressivo verso gli altri cani maschi perché è un cane testosteronico quello non è il suo carattere è un ormone che gli dice di fare così in quel momento e vi ricordo che sono estremamente forti a volte più forti di qualsiasi addestramento e soprattutto se parliamo di cani che non è che lavorano con il proprietario tutti i giorni non stiamo parlando dei cani dell'arma della polizia o del cane che fa le gare di agility a livello internazionale che quindi lavorano tra il proprietario sono super addestrati e magari a quel punto la risposta ormonale viene in secondo piano rispetto ai comandi del proprietario per fare l'esempio pratico un cane maschio intero non va d'accordo con gli altri cani maschi però un cane super addestrato magari il proprietario dice basta ed è basta anche se il cane maschio è vicinissimo invece un cane nella media qua stiamo parlando di cani nella media non cani super iper addestrati Leo va a simpatia ok meglio nel senso Samuela che almeno Leo con qualcuno riesci a farlo socializzare però adesso vi spiego anche dei cani non testosteronici quindi non tanto la simpatia ma la questione dell'equilibrio del livello ormonale dell'altro cane dicevo comunque parliamo di cani addestrati nella media vita nella media che per cui le risorse ormonali sono fortissime ecco altra cosa per cui la castrazione è molto utile in particolare se il cane è sensibile agli ormoni femminili quando le cagnolini vanno in calore è la fuga perché diversi cani sono in grado di scavalcare recinzioni anche facendosi male o scavare buche per sottopassare le recinzioni o sfilarsi dal guinzaglio o non tornare al richiamo anche se sapevano farlo fino al giorno prima sentendo una cagnolina in calore e questo non perché il cane non è addestrato ma perché la risposta ormonale gli stimoli ormonali sovrastano potenzialmente qualsiasi tipo di addestramento salvo addestramenti estremi molto specifici infatti ci sono alcuni centri di addestramento dove so che utilizzano femmine in calore per esercitare l'attenzione del cane sul proprietario anche con lo stimolo del cane vicino e stiamo parlando appunto di cani maschi non castrati e io la trovo una mezza tortura perché questa è una cosa contro natura cioè mettere una femmina in calore a pochi metri di distanza da un cane che sente tantissimo la spinta ormonale in quanto non è castrato e pretendere che di attenzione al proprietario invece che la cagnolina ecco questa è sì una forma di maltrattamento in ogni caso vabbè che siamo d'accordo o meno con questi metodi anche qui torniamo al discorso sono addestramenti specifici mirati particolari un cane nella media va fuori di testa se è intero e noi gli mettiamo una cagnolina in calore vicino piccola piccola nota sulla dicitura non so se tutti lo sanno visto che ogni tanto dico cane intero cane intero in gergo significa semplicemente cane non castrato visto che qui mi dicono sia intero non è a pezzi ok non significa quello ragazzi significa semplicemente non castrato parliamo adesso visto che samuela ci dice leo va a simpatia parliamo dei cani invece poco testosteronici perché il semplice fatto che un cane maschio sia intero quindi non castrato non significa che sia necessariamente un cane testosteronico difatti nonostante che mi vedete abbastanza propensa alla castrazione alla sterilizzazione tipo scalare muretti visto dicevo nonostante che io sia abbastanza propensa e i miei leo e harley sono assolutamente tutti e due castrati riconosco di aver incontrato svariati cani interi non castrati perfettamente socievoli che non ne fregava particolarmente delle cagnolini in calore a meno che non ce l'avessero proprio sotto al naso che non erano ossessivi nelle marcature e non presentavano non facevano pipì in casa non presentavano nessuno degli aspetti particolari caratteristici dei cani interi invece testosteronici ed è per questo che ho iniziato a dividere le due categorie praticamente un cane maschio non testosteronico che tu lo castri o meno non gli cambia la vita particolarmente perché ha un livello di testosterona un equilibrio ormonale tale per basso appunto testosterone basso tale per cui non gli crea questo tipo di comportamenti ricordiamoci non è il carattere del cane sono comportamenti del cane è un po' diverso la differenza è un po' sottile ma c'è in questi casi bisogna scegliere per sé a volte consultando il veterinario appunto per capire perché in questi ultimi anni non si capisce bene se sul piano della salute della prevenzione di tumori eccetera davvero quale sia la scelta ottimale e quindi dico di parlarne col veterinario perché in quel caso non c'è problema a tenere anche il cane intero dal punto di vista ripeto comportamentale che è quello su cui mi esprimo io e perciò quando abbiamo un cane testosteronico che incontra un cane non testosteronico anche se entrambi sono non castrati può essere che il cane testosteronico va d'accordo col cane non testosteronico è per questo che non si può generalizzare vi faccio un esempio che mi è capitato molto spesso con i canini allievi cane maschio intero mi dicono riconosce un cane maschio a centinaia di metri di distanza anche se ha appena girato l'angolo e mi dico come fa a vedere che è maschio magari ha anche tanto pelo non è che vede che è maschio sente gli ormoni gli ormoni viaggiano nell'aria anche noi li percepiamo e ne siamo influenzati anche se non ce ne rendiamo conto i cani che hanno un olfatto estremamente più sviluppato del nostro li percepiscono a una distanza molto più elevata di quella a cui percepiamo noi perciò un cane si può rendere conto da grande distanza se quell'altro cane è maschio e se è testosteronico anche lui o se non è con un livello alto di testosterone tant'è che appunto cani che ho seguito che mi dicevano questa cosa poi capitava di incontrare qualche cane maschio raramente intero a cui non reagivano in maniera particolarmente furente contro è molto probabile che quel cane maschio che abbiamo incontrato o era castrato oppure un cane maschio non castrato ma poco testosteronico che quindi non incita nell'altro cane una reazione conflittuale la caratteristica ovviamente dei cani invece maschi castrati è che sono sempre poco testosteronici salvo le rarissime eccezioni in cui le ghiandole surrenali come dicevo prima prendono un po' il sopravvento e iniziano a produrre più testosterone per cercare di compensare la mancanza improvvisa però sono casi che ci sono non sono così frequenti questo nell'ambito del cane maschio scrivetemi nei commenti se c'è qualche domanda in particolare se mi viene in mente qualcosa mentre parliamo delle femmine la ribadiamo ecco sto pensando mi sembra mi sembra di aver detto tutto iniziamo a parlare un attimo invece delle femmine femmine operazione si chiama sterilizzazione e solitamente vengono asportate le ovaie che sono appunto l'organo che produce la maggior parte degli ormoni femminili all'interno di una cagnolina femmina l'utero non viene solitamente asportato ma in alcuni casi si per la prevenzione di una particolare malattia un'infezione dell'utero se non sbaglio si definisce piometra non so come si legge esattamente ripeto io non sono veterinaria quindi queste poche sull'operazione in sé ve le do per quello che so ma chiedete poi alla veterinaria direttamente dicevo l'utero si può asportare per prevenire questo tipo di infezione che è estremamente grave se non prevenire la morte la cagnolina che cosa andiamo a togliere gli ormoni femminili a che cosa serve sterilizzare la femmina in questo caso un pochettino sono più propensa alla via della salute perché perché la femmina in realtà non sterilizzata oltre ad andare in calore e quindi essere un problema per gli altri cani maschi poi parliamo bene di questo di per sé si può avere qualche squilibrio un po' come noi qualche sbalzo morale durante l'estro è un po' più complicata da gestire per il fattore perdite anche se molto spesso le cagnonine si leccano talmente velocemente che neanche ce ne accorgiamo di avere le perdite in giro per casa ok Sabrina dopo rispondiamo a questa domanda adesso mi leggo i commenti poi le facciamo dopo così concludiamo anche l'argomento dicevo appunto sono un po' più difficile gestire del maschio per il fattore perdite che magari c'è da pulire un po' in giro sul fattore comportamentale invece gli ormoni femminili in linea di massima al di là del momento del calore in cui la cagnolina può essere più irritabile e con sbalzi di umore tendono a donare più dolcezza alla cagnolina femmina perché comunque sono ormoni legati alla femminilità alla maternità anche e quindi dal punto di vista comportamentale o non ha nessun effetto particolare da quello che ho visto effettivamente quasi tutte le femmine sterilizzate che ho conosciuto come allieve non avevano avuto quasi nessuna variazione comportamentale non erano diventate più aggressive perché avevano meno ormoni femminili assolutamente erano normalissime e potrebbero invece dare qualche problemino in più di conflittualità verso altre femmine anche in questo caso qua tra l'altro si dice a ragione veduta perché è abbastanza vero che se c'è una rissa tra maschi spesso finisce con qualche graffio un po' di pelo strappato mentre se se litigano davvero due femmine rischiano che si ammazzano tra di loro ecco non ho personalmente conosciuto nessuna di queste femmine killer verso le altre femmine che fosse sterilizzata o intera a questo punto non non cambiava ma non le ho mai conosciute perciò è una cosa talmente rara da prendere poco in considerazione invece dal punto di vista della salute anche qui dico non mi voglio soffermare eccessivamente però devo dire che è il lato che guardo io perché primo il rischio della gravidanza isterica non so se a qualcuno ma è vero che ingrassano se sterilizzati adesso parliamo anche di questo intanto gravidanza isterica significa che la femmina dopo circa due mesi dal calore avvenuto finge una gravidanza quindi solitamente il sintomo più frequente in assoluto è che la cagnone come se fossero dei cuccioli li difende li porta nella cuccia li lecca li coccola eccetera eccetera questa è una patologia che quindi va comunque curata con dei farmaci specifici tuttavia io la ritengo in parte anche comportamentale perché una femmina in gravidanza isterica può essere pericolosa sia per le altre persone se non sono totalmente nella fiducia di quella cagnone perché potrebbe morderle anche violentemente perché lei sta difendendo i suoi cuccioli anche se sono cuccioli ipotetici sia per gli altri cani e qui piccola appunto un caso che mi è successo davvero una cucciolona di taglia piuttosto grossa ha bucato il polmone della cagnolina anziana di casa che gli stava semplicemente passando vicino durante una sua gravidanza isterica ecco questo è un caso ovviamente molto grave e per fortuna molto raro tuttavia ecco la gravidanza isterica ritengo anche un problema un po' comportamentale nella sfera comportamentale perché può portare a problemi anche gravi ecco la cagnolina è molto iperprotettiva diventa nei confronti di questi cuccioli finti e è dispermica quindi una volta che si presenta tenderà a ripresentarsi ad ogni calore perciò a mio avviso sfera salute più sfera comportamentale legata al problema della gravidanza isterica se una cagnolina soffre di gravidanza isterica si cura la prima volta e si sterilizza in modo che non ci sia una seconda volta e assolutamente perché ripeto tende a essere recidiva e cronica invece altre cose sulle femmine in particolare in questo caso dicono e spero appunto che anche la veterinaria ci confermerà che c'è un più alto rischio di incontinenza urinaria per le femmine pare per una questione di posizionamento degli organi dell'addome e più è grosso il cane di stazza e più si tende ad avere incontinenza urinaria che invece pare non avere un'incidenza particolare sui cani maschi a proposito di questi piccoli dettagli di salute che vi sto dicendo non basatevi solo sulle mie parole e sulla fiducia andatevi a chiedere a qualche veterinario o a leggere qualcosa online scritto a veterinario così come ho fatto io nel senso mi sono confrontata con veterinari e ho cercato di informarmi il più possibile sull'argomento quindi non sto sparando a caso ecco informazioni così da nulla dicevo quindi incontinenza urinaria può essere un rischio di più ingrassare ecco gira questa voce che si tenda appunto il cane tende a ingrassare di più solitamente gira per le cagnoline femmine ma anche tanto per il cane maschio io vi dico io ho Arley e Leo che sono entrambi castrati e sono magri magrissimi vabbè Leo adesso perché non sta bene poverino ma Arley sta benissimo ed è magro così uno stecchino quindi no la sterilizzazione di per sé non fa ingrassare è tuttavia vero che va a influire come abbiamo detto sul sistema ormonale sull'equilibrio ormonale del cane quindi in alcuni casi si può essere che incentiva sicuramente il prendere peso piuttosto che non prendere peso è molto molto soggettivo e potrebbe legarsi a problemi alla tiroide quindi potrebbe essere che non è semplicemente l'operazione che sballa i livelli ormonali del cane e fa ingrassare ma possono esserci dietro altri tipi di problemi e anche qua non mi dilungo perché non sono un caso tra tutti gli allievi che ho seguito mi è capitato solo un caso di una labrador quindi razza già tendente di per sé a mettere su peso che seguiva una dieta casalinga buonissima fresca faceva un sacco di movimento tutti i giorni eppure è diventata una piccola pallottola ingrassata tanto ecco lì c'era da capire perché poi non so bene come hanno indagato col veterinario eccetera perché effettivamente lei dopo la castrazione è ingrassata tanto e non c'era verso di farla dimagrire pur seguendo uno stile di vita sano però ecco è l'unica che mi è capitata ho seguito tantissime altre cani femmine cani maschi e non ho mai rilevato una particolare incidenza di problemi di aumenti di peso tra cani sterilizzati e castrati e cani no quindi quella è più una diceria che ripeto può trovare conferma in alcuni soggetti particolarmente portati comunque o appunto con problemi alla tiroide ma non è assolutamente una regola fissa proprio no poi concludiamo un attimo per le femmine quindi dicevo allora tendenzialmente io sono comunque pro sterilizzazione perché perché come dicevo all'inizio inizio della diretta noi facciamo vivere al cane una vita totalmente innaturale quindi pretendiamo che sia in casa che sia guinzaglio che non possa accoppiarsi nella maggioranza dei casi appena che non siamo allevatori o non vogliamo fare una cucciolata così casalinga nella nostra vita e quindi teniamo determinati istinti alla riproduzione senza che questo possa mai espletarli durante tutto l'arco della propria vita e personalmente su questo non sono particolarmente d'accordo poi è chiaro che ripeto io metto sempre rischi e benefici sul piatto della bilancia quindi è chiaro che se ho una femmina che non ha nessun tipo di problemi non va in gravidanza esterica non ha sbalzi ormonali non causa problemi ad altri maschi perché sinceramente se ho una cagnolina che voglio tenere intera e va in calore e ho il cane del vicino a 10 metri di distanza che va fuori di testa uno dei due deve far castrare o sterilizzare l'altro perché altrimenti non mi va a me eticamente di creare comunque un problema così forte a un altro cane non per il proprietario ma per il cane e ecco una cosa fondamentale legata invece alla gravidanza d'istinto materno delle cagnoline i cani così come noi se non fossimo essere senzienti non hanno bisogno della maternità non sentono il bisogno di avere dei cuccioli di fare la mamma almeno una volta nella propria vita e pare che anche dal punto di vista della salute far fare una almeno una gravidanza ai cani la cagnolina non sia assolutamente d'aiuto o sia talmente poco nella prevenzione di tumori che non ne vale la pena ecco perché in ogni caso metteremo al mondo altri cagnolini da trovare casa togliendo casa comunque ad altri cani eccetera eccetera perciò sappiate ecco quest'altro falso mito legato alla sfera riproduttiva del cane no il cane non ha bisogno di riprodursi né la femmina né tantomeno il maschio che figuriamoci come abbiamo detto il maschio è sempre pronto quindi non gli basterebbe una volta per stare tranquillo poi per tutta la vita quindi quello assolutamente non pensate che sia necessario allora sul fronte femmina ditemi se c'è qualcos'altro che vi interessa sapere come dicevo io sono sempre un po' più propensa anche alla sterilizzazione per il fatto che lasciamo altrimenti degli istinti che mai potrà mettere in atto la nostra cagnolina e questo in generale non lo trovo particolarmente corretto a livello etico a livello anche comportamentale perché è ovvio che in ogni caso durante il calore la cagnolina potrebbe anche cercare di sfuggirci dovremmo stare attentissimi se vogliamo avere una cagnolina socievole socializzata con gli altri cani durante il periodo del calore dobbiamo stare attentissimi che non venga a contatto con un cagnolino maschio non castrato anzi in realtà sappiate che anche i cagnolini castrati possono accoppiarsi ma ovviamente senza la riproduzione effettiva e non dobbiamo stare attenti solo i giorni esatti del ciclo ma per circa un mese poi la veterinaria magari ci ci deluciderà sul periodo esatto in cui stare attenti però ecco sono sono parecchi punti contro alla sterilizzazione però a livello comportamentale c'è da dire che incide sicuramente meno rispetto che con un maschio ecco ecco torniamo un attimo invece sul cane maschio perché ho dimenticato di dire una cosa importante prima come dicevo la castrazione io sono particolarmente propensa ma c'è un ma che si collega poi alla domanda di Sabrina Agliuzzi la castrazione maschio influenza un atteggiamento aggressivo del cane nei confronti di persone strane potrebbe ma solo in un caso ovvero quando abbiamo un cane maschio fortemente insicuro o e e scusate fobico in questo tipo di cani quindi hanno un'insicurezza di base molto forte o addirittura delle paure delle fobie molto ben radicate si tratta solitamente di cani che hanno mancato la socializzazione un corretto imprinting sia con le persone sia può essere con le situazioni in generale di stress di confusione con gli altri cani quindi non soltanto persone però in quel caso adesso Sabrina dopo ti ti rispondo dopo dicevo in quel caso la castrazione è sconsigliata finché il cane non ha preso sicurezza attraverso un percorso di educazione ad hoc studiato per lui perché il testosterone è un ormone che incide un po' nella nella fiducia ecco fiducia in se stessa se stesso del cane maschio cioè un cane molto testosterone diventa conflittuale con i cani maschi perché si sente forte quindi per quello che gli va addosso è molto territoriale perché si sente forte vuole proteggere il proprio territorio piccola nota al riguardo di questo in un branco di cani che si potrebbe vedere che sono anche al sud italia i ruoli del cani dei vari cani maschi all'interno di un branco definiscono anche il lupo ormonale nel senso che c'è un cane alfa come lo definiamo noi spesso in merito ai branchi di lupi che ha un livello ormonale di testosterone particolarmente alto e viene rispettato dagli altri cani gli altri cani avranno un livello ormonale più basso ed è per questo che in un branco hanno modo di coesistere più cani maschi interi ma arriva sempre il momento in cui un cane maschio intero con un livello ormonale di testosterone molto alto sfida il cane alfa e lì a seconda dell'esito della sfida resta il cane alfa oppure viene cacciato il cane alfa o relegato a un ruolo molto più basso se vince lo sfidante e a quel punto il cane alfa assumerà gradualmente un livello ormonale più basso quindi sappiate che il carattere a volte si confonde con il livello ormonale che è altra cosa tornando invece ai cani fobici e insicuri se quindi a togliere il livello di testosterone che aiuta la fiducia in se stessa del cane andremo a creare più problemi di quelli che già non abbiamo avremo un cane a cui praticamente gli manca la terra sotto i piedi che farà molta più fatica ad avere e appunto farà più fatica a lavorare e questo può influire sull'aggressività verso le persone strane sì perché se il cane prima ne aveva paura noi lo castriamo ne avrà ancora più paura non perché gli faranno più paura le persone ma perché lui avrà meno sicurezza in se stessa se stesso a livello ormonale quindi inconscio certo si può anche lavorare su cani ce ne sono tanti di cani in canile che vengono automaticamente castrati senza starli a guardare se sono fobici o no e vengono poi recuperati con un buon lavoro di reeducazione è molto più difficile togliamo un asso nel cane con la castrazione che invece avrebbe per affrontare le sue paure le sue ansie con questo spero di averti risposto Sabrina poi hai fatto un'altra domanda ha senso sterilizzare l'età di 3 anni a scopo di prevenzione qua parliamo sia per cane maschio sia per cane femmina appunto per la prevenzione di tumori di patologie tumorali che ripeto non è il mio ambito però quattro cose ecco mi sono informata anch'io lo che so io praticamente ogni anno in più ogni giorno in più che passa in attesa della sterilizzazione della castrazione si ha una percentuale in più di rischio dello sviluppo di questi tumori che vengono prevenuti preveniti oddio devo andare a ripassarmi alcuni verbi italiani che avrebbero una prevenzione con l'operazione quindi esempi pratici se te castri o sterilizzi a un anno avrai una prevenzione rispetto a questo tipo di tumori agli organi riproduttivi molto più alta che se sterilizzi o castri all'età di 7 anni tuttavia anche all'età di 7 anni avrai una leggera prevenzione ma in percentuale quindi è relativa a quando si e poi ripeto è relativa per cui invece l'operazione porta a un maggior rischio di sviluppo di altri tipi di tumori legati in particolare alle ossa e all'ostoperosi da quello che ho capito io questo tipo di problemi con le ossa tendono a presentarsi tuttavia in età più avanzata quindi ripeto dipende dal piatto della biancia tutto sia dal punto di vista della salute sia comportamentale ecco altra parentesi per le cagnoline femmine in caso di insicurezza e o fobia non c'è una vera e propria controindicazione ad eseguire la sterilizzazione in cui l'operazione non va a influire sul livello ormonale a livello del testosterone ma a livello degli ormoni femminili tuttavia io preferisco sconsigliare in questi casi anche la sterilizzazione salvo che non ci siano problemi di salute con la gravidanza isterica perché perché abbiamo un cane che deve essere lavorato una cagnolina che è fobica o ha fortissima insicurezza ha paure deve prima essere lavorata prima di poter affrontare un'operazione che al di là dello stress fisico della ripresa fisica ha bisogno anche di affrontare uno stress mentale cioè gli esami l'operazione risvegliarsi nella clinica dell'ambulatorio affrontare il post operatorio che ricordiamo sempre per le femmine è un pochino più delicato e più lungo rispetto ai maschi maschi tendenzialmente nel giro di una settimana sono tornati perfettamente come nuovi le femmine magari ci mettono anche 15 giorni a guarire completamente a rimettersi completamente ecco quindi anche in questo caso suggerisco se non c'è un'urgenza di effettuare l'operazione di aspettare di aver prima recuperato il carattere equilibrato della cagnolina e poi affrontare il tema di ditemi se avete altre domande particolari ricapitolando un attimino in attesa di vedere se qualcun altro ha domande castrazione e sterilizzazione a livello comportamentale ricordiamoci che non è una cosa davvero innaturale perché la vita stessa che noi facciamo fare al nostro cane cittadina moderna è totalmente innaturale per definizione ma è un atto di benessere nel qual caso si presentano problemi legati a questa a questo livello ormonale appunto e caratteriali perciò comportamentali scusate come ho detto i comportamenti differiscono dal carattere del cane perciò il cane maschio che fa pipì in casa che marca ossessivamente in giro che non va più d'accordo c'erano altre due domande vale dove sterilizzare l'età di prevenzione ingrassano no ho risposto ho risposto tutte ok no ho risposto a tutte vale samuela forse aveva scritto allora perché la consigliano all'inizio ma come ho detto anch'io anch'io la consiglio in particolare la castrazione cioè io ripeto io sono pro tuttavia mi sono capitati dei casi in cui ho detto di no invece che non era rosi sicchia aspetta no allora non le vedo vale perché come è possibile dicevo in ogni caso concludiamo quello che stavo dicendo non le vedo vale me le vuoi riscrivere te perché non le vedo non so non so perché noi i mimoretti non le vedo vale me le riscrivi me le copy and call di please dicevo anch'io lo consiglio tranne alcuni casi perché tutti sono tipici in cui è sconsigliabile ma sono sono relativamente pochi alla fine perché l'ago della bilancia pende sempre un pochino più verso la prevenzione e sia a livello di salute appunto su cui tuttavia a parte le due cose che vi ho detto adesso a cui anch'io sono conoscenza non voglio indagare ulteriormente ma soprattutto a livello caratteriale quindi non diamo possibilità al nostro cane di avere degli stimoli che non potrà mai soddisfare però se capitano appunto come ho già detto cani cani maschi che non presentano comportamenti tipici testosteronici come fare pipì in casa diventare aggressivi dall'età dell'adolescenza verso gli altri cani maschi fuggire per andare in cerca delle femmine in calore ossessivi nelle marcature ogitati in generale quando ci sono femmine in calore allora in quel caso abbiamo cani poco testosteronici e non è per forza consigliata la castrazione ok brava vale copiami le domande perché non le vedevo scusatemi ok chissà perché poi cercheremo di scoprire ogni volta ce n'è una perché non vedevo queste domande Kimi non è cassato ha sempre marcato in casa ma dopo l'ho fatto copiare è peggiorato ovviamente il boss di casa è solito più vecchio per esempio bussa ok allora come dicevo se ci sono casi un po' particolari specifici ragazzi poi scrivetemi in privato perché sennò le dirette diventano delle consulenze personali e quello non è non è fattibile durante la diretta però intanto c'è da capire se se Olli quello più vecchio è anche lui castrato o meno perché a volte un livello ormonale dell'altro cane può influire sul primo anche se questo è castrato poi bisognerebbe capire a che età è stato castrato che cosa si è fatto fino adesso per evitare che marcasse in casa e perché l'avete fatto accoppiare se già era un cane che dimostrava di essere testosteronico in ogni caso in questo caso mi sembra che il problema sia un po' la gestione del cane e dei due cani in particolare tipo se bussano e lui si avvicina per primo rischia di prendere delle pizzicate qua è il proprietario che deve gestire la situazione e non i cani poi se il cane anziano si fa tra virgolette governare dall'altro cane tendenzialmente non succede mai nulla di grave appunto una pizzicata nel linguaggio del cane non è una cosa grave è un avvertimento forte magari ma non una cosa grave lui deve primeggiare in tutto ecco lì invece c'è da lavorare perché non si primeggia in tutto il proprietario è il regolatore delle attività dei cani in particolare se ce ne sono due o più non assolutamente non deve prendere il comando tra virgolette uno dei cani se sono più di uno ma il proprietario che deve sempre regolare intervenire per gestire i rapporti tra i cani questo mi raccomando il maschio alza la zampa per fare pipì se il castrato può assumere la posizione seduta assolutamente sì e ti dirò di più alcuni cani addirittura stavano iniziando ad alzare la zampa verso i 7-8 mesi di età castrati esattamente in quel periodo di processo appunto per cui il cane inizia ad alzare la zampa sono tornati a fare la pipì da seduti invece che la zampa alzata con grande preoccupazione dei proprietari semplicemente hanno iniziato ad alzarla più tardi la castrazione tendenzialmente non evita che il cane alzi la zampa ma può rallentare l'apprendimento di questo che è un atteggiamento dettato dal testosterone quindi un cane a cui viene tolto proprio in quella fase lì potrebbe posticiparla tendenzialmente però quasi tutti i cani poi imparano in ogni caso a fare la zampa alzata diversi cani maschi castrati fanno a volte la pipì seduti a volte a zampa alzata e invecchiando tendono a farla prima di un cane lì però ha problemi fisici di artrite un po' di doloretti però ecco se è castrato il cane potrebbe iniziare a farla seduto d'anziano prima rispetto a un cane maschio intero che sente comunque il bisogno di marcare finché può ecco rosy adesso non so non chiedermi perché rosy ma adesso vedo il tuo commento se l'altro non è castrato bisogna bisogna capire un attimo meglio le dinamiche perché significa che i livelli l'equilibrio ormonale c'è un disequilibrio ormonale che porta a un disequilibrio comportamentale tra i due però lì ripeto è una cosa un po' più specifica e personalizzata difficile capire ma chissà perché non vedevo i vostri commenti ragazzi non lo so io sono a ridere e mi ascolta brava samuela no rosy capisco capisco la problematica castrato ok e non ti dico che sarebbe necessario castrare holli perché non li conosco e non so bene le dinamiche attuali però ecco potresti potresti fare una valutazione personalizzata individuale con un esperto educatore per valutare se la gestione è corretta se ci sono cose da migliorare tendenzialmente quando c'è un cane più anziano un cane più giovane si ottiene un buon equilibrio se il cane anziano si mette da parte si ottengono invece scontri anche a volte pericolosi non penso sia il tuo caso se il cane giovane vuole iniziare un po' a predominare e quello vecchio invece non cede lì appunto si va tutta in una sfera un po' più complessa e di scontri anche pericolosi è il proprietario comunque che deve intervenire sul nascere quindi prima si interviene e meglio è il piccolo viene sgridato allontanato in questo non è detto che sia la cosa migliore perché più che sgridato e allontanato dovresti inserire delle routine di gestione tipo proprio bussano la porta nessuno va ad aprire dei cani ovviamente io proprietario vi chiedo di mettervi entrambi da una parte in modo che io vado ad aprire la porta e nessuno di due viene a fare la vedetta la la pettegola del caso quindi appunto lì c'è da rivedere un attimo la gestione proprio dei cani non riesco a spiegare altri dettagli qua perché ci sono da vedere tante cose individuali in ogni caso castrare holly se hai la domanda sarebbe utile può essere di sì non è una certezza ecco ricordiamoci che gli ho detto appunto le ghiandole surrenali il fatto delle abitudini quindi più un cane mantiene abitudini testosteroniche e meno sarà recuperabile più passano gli anni non c'è la certezza perché siamo sempre in ambito comportamentale nonché anche la salute non è che ci sono certezze matematiche neanche a livello di salute quindi si può dire che abbiamo una propensione è probabile che facendo castrare l'altro cane le cose potrebbero migliorare sì è molto probabile è certo no quindi è sempre una prova tant'è che esiste non ve l'ho parlato magari ne parlerà appunto la dottoressa veterinaria anche la castrazione chimica che si tratta di un un inserto sottopelle che rilascia ormoni per inibire l'azione degli ormoni e anche per cani maschi e può dare una panoramica ecco se la castrazione poi avrebbe davvero effetto sento pareri discordanti sulla castrazione chimica quindi non a livello di salute intendo non mi voglio pronunciare troppo l'ho consigliata in alcuni casi in cui era veramente palese che il problema era il testosterone e i proprietari non ne volevano sapere di fare l'operazione l'ho consigliata in extremis per far capire ai proprietari che il problema era davvero quello e che quasi sicuramente anche qui la certezza non è che c'era quasi sicuramente avrebbero avuto benefici già da quella chimica però appunto la consigliamo solo in in questi casi non non è una cosa che si può fare per tutta la vita del cane assolutamente però in alcuni casi può essere utile per verificare se davvero poi la castrazione sarebbe utile oppure no non è affidabile a 100% cioè che comunque potrebbe non essendo comunque la castrazione vera e propria potrebbe non avere gli effetti che poi invece avrebbe la castrazione perciò ecco castrazione chimica un po' un po' da usare con parsimonia ditemi se ci sono altre domande che magari non ho visto altrimenti sto pensando se c'era qualcos'altro di cui dirvi per castrazione e sterilizzazione ditemi se è tutto chiaro anche perché tra poco devo andare a prendere i bimbi come al solito all'asilo quando fare la castrazione e la sterilizzazione sicuramente il maschio tra i sette mesi di età e i due anni a seconda della razza del carattere dello sviluppo del cane la cosa migliore sarebbe intervenire appena prima che si presentano i problemi diciamo legati al testosterone e ovvio non possiamo predire prima però appena si presentano appena il nostro cane inizia a essere conflittuale verso gli altri cani maschi è il momento giusto appena inizia a essere ossessionato dalle altre femmine e a volte anche dagli altri maschi per cercare di montarle è il momento giusto se inizia a fare pipì in giro per casa a zampa alzata è il momento giusto dico tra gli otto mesi e due anni perché ci sono alcune razze di mole particolarmente grossa come gli alani e alcuni pastori molto molto grossi che tardano parecchio lo sviluppo anche intorno appunto ai due anni perciò non si può generalizzare e sterilizzazione invece sinceramente non ho capito ancora nemmeno io se è meglio far fare il benedetto primo calore alla femmina oppure no e sentite parlate con il vostro veterinario ognuno ha un'opinione diversa sappiatelo grazie mille Samuela per il commento io personalmente propendo per o aspettare il primo calore o addirittura farlo prima farlo prima non lo dico con la mano sul fuoco perché ripeto non ci sono studi abbastanza approfonditi tuttavia ho conosciuto cagnoline che hanno fatto prima l'operazione e stanno benissimo sono rimaste più cucciolotte più giocherellone eccetera non c'è neanche un'idea ben chiara neanche tra i veterinari e neanche tra gli educatori quindi non c'è appunto è un po' difficile orientarsi su questa scelta non sono d'accordo invece sull'aspettare due, tre, quattro calori perché lì si va un po' sull'esagerazione e si rischia di incorrere nella gravidanza esterica come detto prima quindi se si decide di sterilizzare dopo il primo calore va benissimo niente sto cercando di far mente locale se c'era qualcosa che mi è sfuggito ma non mi sembra io direi che ci possiamo salutare e se a qualcuno viene in mente qualche altra domanda può scrivere nei commenti vi ricordo che la diretta è andata in onda contemporaneamente sul mondo degli spiz su playdog and cat community e che io seguo il canale playdog and cat lo trovate su youtube e basta ci vediamo allora con la prossima diretta direi che quella di oggi è andata particolarmente bene rispetto alle altre volte riusciremo a farle andare sempre meglio se ci sono argomenti che vi interessano particolarmente scriveteli nei commenti e se avete bisogno ecco di consigli un po' più personalizzati potete scrivermi in privato sappiate che comunque per situazioni un po' più complesse la cosa migliore è sempre contattare un educatore che venga direttamente a vostro domicilio conoscervi di persone seguirvi individualmente ragazze perché mi sembra che siamo un po' tutte donne e ragazzi perché tanto questa diretta verrà pubblicata anche sul canale youtube vi saluto e ci vediamo alla prossima diretta spero di esservi stata utile ciao ciao